A Nicosia il pomeriggio di domenica 15 maggio è stato dedicato alla figura del poeta farmacista Carmelo Lagiglia, vissuto agli inizi del Novecento. Il Rotary Club di Nicosia, presieduto da Salvatore Timpanaro, ha voluto donare un basso rilievo in bronzo che è stato posto proprio accanto al locale dove svolgeva la sua attività di farmacista agli inizi del secolo. Cerimone in pompa magna per un personaggio nicosiano di grande valore. Il raduno in Piazza Garibaldi ha visto la presenza della banda musicale San Felice e dell'Associazione dei Bersaglieri insieme ai soci del Rotary Club, del Rotaract e dell'Interact. In testa anche l'amministrazione comunale con il sindaco Luigi Bonelli, il vice sindaco Anna Maria Gemellaro e l'assessore Ivan Bonomo. Il corteo festante ha raggiunto il civico 51 della via Frelli-Testa proprio al piano terra del Palazzo Cirino. Un drappo rosso ricopriva il basso rilievo. Dopo un breve discorso del presidente del Rotary Club Salvatore Timpanaro, la parola è stata presa dal sindaco Luigi Bonelli che ha ringraziato il club service per l'omaggio alla città. La cerimonia si è conclusa con la scopertura del basso rilievo, un'opera molto fine e ben curata, opera dell'artista palermitano Gabriele Venanzio presenta la cerimonia. Oltre all'effigie del celebre poeta, anche dei versi in Gallo Italico, il dialetto che lo ha reso celebre. La giornata dedicata a Carmelo Lagiglia è proseguita nell'androne del Palazzo Comunale, dove ci sono stati altri interventi rilevanti. L'assessore Ivan Bonomo ha voluto ricordare come da questo evento si partirà per una valorizzazione del dialetto Gallo Italico, con una serie di importanti iniziative, tra le quali spicca quella relativa all'UNESCO, per far riconoscere questo dialetto come patrimonio immateriale dell'umanità. Tra gli interventi da sottolineare, quello dell'artista che ha realizzato l'opera in bronzo, Gabriele Venanzio, il giovane scultore palermitano, verrà ricevuto mercoledì dal Papa, a cui donerà una delle sue opere, e sta realizzando un busto in bronzo dedicato alla figura del celebre magistrato italo-americano Ferdinand Pecora, nato a Nicosia. Anche quest'opera è stata commissionata e donata dal Rotary Club di Nicosia. Interessante l'intervento di Salvatore Trovato, professore dell'Università di Catania e studioso dei dialetti gallo-italici dei tredici comuni siciliani in cui si parla. La sua esposizione è servita per inquadrare la figura della Giglia nella sua epoca, le radici del gallo-italico, per cui sta realizzando un dizionario di prossima presentazione, ed ha illustrato e letto anche alcuni brani tratti dalle opere di Carmelo Lagiglia. La figura dello speziale poeta è stata approfondita da Nino Contino, storico e studioso nicosiano. Il professore, oltre a leggere alcune poesie della Giglia, ha ricordato alcuni aneddoti della sua vita inquadrandoli insieme ad altre figure del suo tempo, come il celebre politico Mariano Lavia, e scrivendo una figura brillante di un personaggio che nella sua specialità aveva creato un vero e proprio caffè letterario. Nella sua brillante esposizione ha ricordato altri personaggi illustri nicosiani che meriterebbero l'intitolazione di una strada per quanto hanno compiuto in vita. La serata è proseguita con la lettura di altri brani della Giglia in Gallitalico, tra cui ricordiamo Rita Scinardi, che ha ricordato come nelle scuole da qualche anno si tenta di non far perdere il patrimonio linguistico derivante dal dialetto gallo-italico.